Appena due successi negli ultimi 11 incontri, Coppa Italia compresa, invertita la tendenza. Prima il Pescara segnava nei minuti finali che invece ultimamente si stanno rivelando fatali. A Pontedera per dare un segnale convincente, soprattutto per cambiare marcia. Prima volta senza Memushai, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto, come anticipato, giocherà Zappella. Ruolo inedito ricoperto dall'ex Cesena solo in una occasione per necessità nella primavera dell'Empoli guidata da Alessandro Dalcanto. Campionato 2016-2017. Auteri. Zappella è un giocatore che può interpretare bene quel ruolo. Già da 15-20 giorni viene addestrato, allenato in quel ruolo. Quindi è chiaro che Zappella è un giocatore diverso da Memushai. Memushai entra nel gioco, nel cucire il gioco e poi che ha capacità di inserimento anche palla al piede. Zappella ha le caratteristiche di Memushai, perché lo devo fare entrare basso a cucire il gioco quando lo espongo agli errori? Sarebbe da stupidi. Cerco di valorizzare le sue qualità migliori, che sono quelle che voi conoscete meglio di me. Oltre a Memushai e al lungo degente di Gennaro indisponibili per lievi a Ciacchi, Bocci e Cegalano, La buona notizia arriva da Chiarella sulla via del recupero dopo il grave infortunio alla spalla. Scalpita Iacobucci, ma tre pali dovrebbe essere confermato il giovane Sorrentino, finora inappuntabile. In difesa Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Inzita. A centrocampo Zappella, Pompetti e Rizzo. Davanti Auteri potrebbe rilanciare Clemenza, Ferrari e Dursi o De Marchi a completare il reparto. Nel gioco delle rotazioni plausibile, il ritorno all'antico, ovvero in fase di costruzione al 3-4-3. Cancellotti centrale, Zappella tutta fascia, Rizzo, Pompetti, Cerniera di metacampo. Inutile dire che potevamo avere dei punti in più perché non serve, perché i sei ma non si va da nessuna parte. Ora la guardo, se fossimo stati i primi no. Perché? Perché non sarebbe stato un obiettivo definitivo a questo punto della stagione. Così non lo è, come non lo è neanche questo, ma è chiaro che la guardo perché è certo che la guardo. E non la guardo, contento. A Ponte Nera l'ultimo successo in trasferta lo scorso 19 settembre, ma contro il Montevarchi che gioca sullo stesso campo dei Granata. Primi dello squalificato e specie degli infortunati Muton, Di Meo è pretato. In classifica 18 punti, di cui 14 conquistati al Mannucci, dove la squadra di Maraia ha fermato la Reggiana 2-2 e battuto l'Entella 2-1. 21 gol realizzati come Entella e Pescara, di cui 14 in casa. Sistema di gioco 3-5-1-1. Il probabile 11, Sposito tre pali, Shiba, Matteucci e Bakayoko nel cuore della difesa. Sulle fasce perretta è uno tra Parodi e Milani, in mezzo Catanese, il play Caponi e Barba. Tra le linee, Benedetti alle spalle di Simone Magnaghi, ex Teramo, re dei bomber del girone con 10 centri. Squadra aggressiva, organizzata sostanzialmente di categoria. Auteri la presenta così. Campo sintetico, dove le azioni prendono velocità ancora di più. Una squadra aggressiva, una squadra che ha consistenza, una squadra organizzata. Una squadra che mi ha fatto una buonissima impressione. Squadra solida, tipica dell'ACI. Quindi una bella partita impegnativa. Ma voglio dire, ogni avversario ha le proprie peculiarità. Anche qui in questo girone sono avversari scadenti. Con me stesso sono molto incazzato, arrabbiato. Poi io la vivo quasi a 360 gradi. Ciò che faccio dal punto di vista del lavoro mi condiziona anche in tutto quello che faccio all'esterno. Per cui certo che siamo arrabbiati. E quindi possiamo anche capire, anzi di sicuro capiamo, la delusione anche un po' di tutti. Chiaro che rispetto all'inizio un po' di positività l'abbiamo persa, i risultati. Però obiettivamente non ci sta dicendo neanche bene. È chiaro che dobbiamo fare prestazioni migliori perché non ci sta dicendo neanche bene. Potremmo dire tantisemma, ma restano chiacchiere. Per cui il primo a essere deluso sono io. Per cui il primo a essere deluso sono io. Per cui il primo a essere deluso sono io.